Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. La circolazione di aria fresca si allontanerà verso est, consentendo all'alta pressione di fortificarsi nuovamente anche sui settori orientali dello stivali. Il tempo sarà bello e soleggiato, salvo locali annuvolamenti pomeridiani lungo la catena appenninica, che potranno dar vita ai solati temporali di calore. Le temperature saranno in generale aumento, fatta eccezione per il versante orientale, dove si farà sentire il maestrale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per venerdì 26 maggio. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio cielo più soleggiato lungo le coste adriatiche sul Foggiano. Altrove possibili annuvolamenti sparsi, soprattutto nelle zone interne, ma senza rischio di precipitazioni. In serata ultime nube di passaggio con ritorno a decili stellati. Temperature, come notiamo dalla grafica, in ulteriore lieve diminuzione, nei valori minimi, stazionarie invece le massime. Venti moderati di maestrale, sostenuti lungo le coste pugliesi e per quanto riguardi i mali, generalmente mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Domenico Riga per questo incantevole scatto che ritrae lo spettacolo paesaggio naturalistico dal Parco Nazionale del Pollino. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero Whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.